buongiorno amiche buon martedì buongiorno collinetta oggi abbiamo una fascetta skinker di un celeste jeans bellissimo secondo me questo colore è veramente meraviglioso mi piace tantissimo ed è già martedì amiche il tempo vola e skinker al volo assieme oggi un video super mega velocissimo applichiamo come sempre il tonic comfort di lancome lo massaggiamo bene 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 amiche io in questi giorni sono super contenta ho messo questo smalto molto molto carino arancione e la crema è quasi finita siamo quasi arrivati alla fine del barattolino di crema di lancome advanced genifique sono contenta mi è piaciuto tantissimo quando sono anche costosette vorrei alla fine amiche che non finissero mai perché sono così costose da ricomprare però ero quasi un po stufa di utilizzare queste vi dico la verità però poi mi dispiace quando finiscono tocca ricomprare qualcosa come siero abbiamo applicato come sempre l'advanced genifique e come crema viso l'hpn 300 peptide cream ormai no mi li ho imparati a memoria di queste creme e sulle labbra applichiamo il bonbon di malizia milk cake tirabaci è carinissimo e super profumato e nel collo come sempre l'extra firme in collo e decolletè che è un trattamento giovinezza decolletè collo levigante e rassodante e nelle manine amiche nelle zampette ed amicine applichiamo la black rose crema mani di camomilla al muschio bianco delicatamente profumato e molto molto carina nel pack e oggi applichiamo anche il siero è un siero uniformante primer e illuminante di pupa il multitalent in colorazione 001 ma è già il momento di geni pini brufolini e le occhiaie da pandina noi insieme le contrastiamo con il fondotinta amiche e i correttori oggi la palette concealer correct contour di NYX carinissima questa palettina è molto molto comoda devo dire anche parecchio grandina perché ci sono all'interno sei colorazioni un pesca un giallo un marroncino e tre gradazioni di begiolini molto molto performante l'abbiamo utilizzata un bel paio di volte ed è super super comoda avere tutti questi colori tutti assieme e questo bel fondotinta liquidino è il fondotinta di wet and wild photo fox praticamente è un fondotinta matte e ne utilizzo due in due colorazioni differenti uno un po più chiaro e uno un po più scuro quello chiaro è light ed è molto molto bianco mi piace tantissimo e il colore è E363C invece quello più scuretto è E368C gold beige golden beige quello chiaro è il nude ivory molto bello particolarmente diciamo liquido però si fonde devo dire che va proprio ad omogeneizzarsi perfettamente sia col primer che con la crema che abbiamo messo al di sotto mi piace veramente tanto il fondotinta di wet and wild è uno dei miei preferiti e come cipria per settare un po la base applichiamo la cipria di revolution lace baking powder una super matte fix no flashback molto bella molto bella in polvere libera va a fissare per tutta la giornata il fondotinta e i correttori molto molto comoda perché non ho bisogno di ritoccare durante il giorno che è una cosa che non mi piace fare ritoccare il makeup e come blush applichiamo questo bellissimo blush di Alice di wet and wild il talk to the flowers è una palette blush molto luminosa che all'interno contiene dei blush matte e dei blush anche con un po di perlescenza all'interno a me piace anche fare una mescolata di tutti col pennello applicare se no dipende dalla giornata anche uno ad uno e come illuminante utilizzo la palette di revolution pro la sculpt and glow contour highlight palette che è molto molto bella è la desert sky e mi ricorda le dune della sardegna ma 3 2 1 voilà oggi utilizziamo la palette vintage jean baby di nyx ultimate il nostro amico scotch di carta ci aiuta nella realizzazione del makeup okey di oggi il look okey amiche dedicato al colore della fascetta si amiche oggi nei toni del celeste un celeste quasi jeans ma molto bello molto intenso mi piace veramente tanto pensare anche al colore del mare della sardegna ma anche al mare che circonda l'italia tutti i nostri mari amiche sono stupendi io amo tantissimo la montagna ma d'estate ovviamente vado nel mare anche a nord per chi sapete che abito sulle montagne quindi spesso vado nel mare più vicino a me e che non è appunto quello della sardegna ma è un mare al nord italia e devo dire che mi trovo molto bene siamo fortunati perché in italia abbiamo bellissime zone in cui andare in vacanza adesso amiche stiamo applicando l'azzurro intenso un bel blu scuro e andiamo a intensificare la parte esterna dell'occhio e a creare anche l'ombra nella pieghetta dell'occhio devo dire che avevo proprio voglia di azzurro stamattina mi sono svegliata con questa voglia di mare ma anche di estate di cielo azzurro e anche un cielo notturno perché questo è un blu molto intenso che mi ricorda il cielo di notte quando è limpido e molto azzurro e via anche con un po' di glitter guardate che carino ho messo questo ombretto super glitterino molto molto carino ero indecisa se applicare l'eyeliner ma diciamo che anche senza è molto molto carino quindi niente eyeliner nero questa mattina ma semplicemente un tocco amiche di ombretto azzurro nella parte esterna dell'occhio per andare a intensificare lo sguardo direi che è più che sufficiente e amiche come avete potuto vedere il mascara oggi lo mettiamo alla fine su tutti e due gli occhi per il semplice fatto che mi sono dimenticata non ho messo l'eyeliner e quindi mi sono dimenticata anche dell'esistenza del mascara ma rimedieremo mettendolo alla fine e in un battibaleno amiche abbiamo già creato il trucco occhi anche nel secondo occhio io spero che questo make up azzurro vi piacerà è un azzurro secondo me non è un celeste questo è proprio un bel azzurro e blu mi piace tanto perché oggi ero ispirata così dall'azzurro io amiche sono super curiosa come sempre di sapere il vostro parere se vi piace truccarvi di azzurro se vi è piaciuto il make up che ho realizzato e se non vi è piaciuto amiche ditemelo lo stesso io sono super contenta sempre di tutti i vostri pareri ora provo ad applicare il mega volume mascara di wet and wild ma già dopo due spennellate ho capito che non era quello di cui avevo bisogno oggi e quindi ho deciso di applicare il lash princess volume che scolpisce da un sacco di volume di essence perché avevo voglia di un mascara molto più deciso e quindi ho scelto essence alla fine un brillocco per finire il make up e dare un tocco di scintillio e come glossino vado ad applicare il gloss di l'oreal in colorazione se non sbaglio 406 perché scritto molto piccole amiche mi sa che non sono sicura di averlo letto giusto ma questo è il make up che abbiamo realizzato oggi con l'azzurro all'interno della palette vintage gym baby di ultinix sono super curiosa di sapere cosa ne pensate come sempre amiche io scappo al lavoro vi mando un bacio grande 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 grandissimo ci sentiamo nei commenti e ci vediamo nel video del pomeriggio un bacio amiche buona giornata a dopo